Che una bella passeggiata in bicicletta faccia bene alla salute non è in discussione e di questo avviso sono pure la Misericordia e la Fratres di Ecireale che hanno organizzato più bici, più amici, manifestazione ciclistica con partenze e arrivo nell'area com di Corso Italia manifestazione che ha visto persone di tutte le generazioni sui pedali a godersi questi primi scampoli di primavera Questa manifestazione che l'abbiamo ripresa da un po' di anni che non si faceva, quindi l'abbiamo ripresa quest'anno Stamattina con la bella giornata che ha retto il tempo così facilmente abbiamo organizzato questa manifestazione insieme alla Fratres insieme alla Misericordia e insieme a CSWE È un momento per stare insieme, è un momento per condividere un po' di sport sano L'abbiamo organizzato anche grazie agli sponsor dell'antica cioccolatteria e anche al snack eventi e anche grazie a tutti i negozi che hanno fatto sì che con il loro apporto si è potuto realizzare questa manifestazione Abbiamo visto un numeroso pubblico che si è avvicinato a questa manifestazione non soltanto a bambini ma anche persone più grandi e questo significa che Agireale è pronta sempre ad ogni richiamo che viene lanciato a tutti quanti Grazie a tutti